Per tutte le mie dichiarazioni di domenica, di conferenza stampa, vorrei fare chiarezza su alcuni concetti da me espressimale e su altri recepiti e feccio. Prima cosa, pensare che io possa mettere in discussione tattiche o allenamenti del mister mi sembra veramente assurdo e poco credibile, visto che con Bardi ho vinto due campionati e se sono a Forlì è principalmente grazie a lui e alla ricifra e gaudostima che abbiamo. Chiarito questo concetto voglio precisare che la squadra si allena benissimo. Ma che per uscire da questo momento dove si racconta meno di quello che si è seminato l'unico mezzo è quello di dare ancora qualcosa in più durante la settimana. e che se prima davamo il 100%, ora bisogna dare il 110%. Per quel che riguarda la polemica assurda sulla tattica, io ho solo confermato il fatto che noi, essendo una delle squadre che gioca meglio palla a terra, quando incontriamo avversari che ci pressano, troviamo maggiore difficoltà. ma questo è logico come tutti sanno e che noi giocatori dobbiamo essere più veloci nelle giocate che il mister ci fa provare settimana. La mia, quindi, non era una polemica verso nessuno, ma l'unica intenzione era quella di responsabilizzare me e i miei compagni e di scronarci sempre a fare il meglio. Sul discorso del gruppo, credere che ci possano essere problemi mi fa sorridere, perché nelle difficoltà questo gruppo ha dimostrato davvero una gran forza. che ci ha permesso di vincere il campionato e di essere, a questo punto, a 10 punti del play-out, a 3 del play-off e, a parte col bell'aria, riuscire sempre tra gli applausi e anche dopo una sconfitta. Tra parentesi, mi chiedo Rimini, meno 10 punti e Venezia, pari a noi, cosa dovrebbero fare?